Salve a tutti i record qui Rocket e bentornati ragazzi finalmente in questo nuovissimo video del mio canale Questo oggi come anticipato nel video degli strega ragazzi parleremo di un argomento molto interessante riguardo ai nuovi giochi Che si collegano appunto con Ultrasole e Ultraluna ovvero il possibile collegamento tra i protagonisti di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee E insomma il protagonista di Pokémon Ultrasole e Ultraluna Questa teoria nasce da un oggetto abbastanza significante così a prima vista ragazzi Ovvero l'autografo di Surge che viene dato appunto dal protagonista di Let's Go una volta sconfitta che aveva preso a Surge E che poi insomma è stato anche ritrovato l'anno scorso nella camera del protagonista di Ultrasole e Ultraluna Quindi un oggetto ragazzi che collega due giochi e due personaggi Chissà però quale sarà effettivamente realmente il collegamento tra i personaggi ragazzi di questi due giochi Oggi io proverò a dire quello che ho pensato in questi giorni ragazzi Le mie opinioni, le mie interpretazioni contando anche se vuoi supporto con uno dei mi piace E un bel commento qui sotto ragazzi per sapere anche la vostra su questo argomento Prima di tutto voglio un po' chiarire in che punto si collocano secondo me i fatti avvenuti in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Secondo me ragazzi in questo argomento di canto presente in Let's Go è praticamente l'accanto di questa linea temporale del Mega Evoluzioni Iniziata tanti anni fa con Pokémon X e Y Quindi è l'accanto in cui esistono le Mega Evoluzioni Rosso, blu e verde hanno le Mega Evoluzioni ed esistono le Formalola Un accanto diverso ragazzi in cui appunto ci sono le Mega A differenza della vecchia canto di giochi per Game Boy Advance e Game Boy Color L'idea che mi sono fatta io di quanto questa cosa E ragazzi ripetisco che è solamente un'idea quindi non per forza deve essere esatta in questo momento E che i fatti di Let's Go si svolgono molti anni prima Possiamo dire dieci se non più anni prima rispetto ai fatti di Ultrasole e Ultraluna Ci sono anche diversi indizi a provare questa cosa ragazzi La capitana Rick che è presente in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Sembra molto più ingiovanita rispetto alla sua età normale di Ultrasole e Ultraluna Inoltre dopo a Lega potremmo bisognava un messaggio destinato a Oak ragazzi Da parte del suo cugino di Alola ovvero Manuel Che dirà che nel tutto il mondo adesso verranno incoronati altri campioni delle Lega e Pokémon Cosa che colloca Let's Go in un'epoca veramente molto molto remota possiamo dire Ben prima di Rubin Omega e Zaffiro Alpha, X e Y, Sole Luna e ovviamente Ultrasole e Ultraluna Questa ovviamente è la mia idea riguardante la collocazione ragazzi Dei fatti di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Non per forza la versione giusta però io sinceramente me la sono immaginata così Tutto questo discorso in ogni caso è per far capire ragazzi Che il protagonista di Alola potrebbe essere effettivamente un discendente a livello temporale Del protagonista di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Infatti analizziamo un po' la stanza del protagonista di Let's Go Vediamo ragazzi come dicevo un libro aperto apparentemente dalla copertina rossa Vediamo un pupazzo di Pikachu e nella stanza vediamo anche un mappamondo Senza dimenticare il fondamentale autografo di Serge che possiamo dire è l'indizio principe di questo video Nella stanza del protagonista di Alola di conseguenza possiamo vedere alcuni elementi ragazzi Che sembrano essere in comune con la stanza di Kanto appena descritta Ovvero un libro aperto con copertina rossa a quanto pare regalato dal nostro padre Possiamo vedere un pupazzo di Pikachu, il mappamondo e ovviamente ragazzi Quel fantomatico autografo di Serge che vi ricordo è un indizio veramente molto importante Addirittura sappiamo che il protagonista di Alola in realtà si è assolito ragazzi dalla regione di Kanto Quindi non è l'ugiano di Alola ma della regione di Kanto Quindi ragazzi questo è un indizio in più Gli indizi cominciano a diventare veramente tantissimi Inoltre alcuni di voi messaggi privati mi hanno anche fatto notare ragazzi Che nella casa di Alola in particolare nel garage si trova anche una tavola da surf Poverente dalla regione di Kanto che insomma è praticamente simile nella forma Alle tavole presenti in Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Per fare il surf tra i percorsi marini della regione di Kanto Quindi sì potrebbe essere un ulteriore dettaglio O anche solamente la coincidenza Io non ci avevo pensato a questa cosa insomma Che potrebbe collegare anche Alola A Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Gli indizi che non avete capito ragazzi cominciano a essere veramente molto numerosi E molto pesanti e schiaccianti ragazzi in favore di questo legame di rappresentanza Tra i due protagonisti ragazzi di questi due giochi Quindi sinceramente per finire questo video mi piace pensare Che il protagonista di Kanto di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee Sia effettivamente ragazzi il padre del protagonista di Ultrasole e Ultraluna Sì alla fine potrebbero anche essere assolutamente parenti come dite voi ragazzi Però insomma la presenza di oggetti così tanto comuni tra le due stanze E a livello temporale insomma mi piace pensare Che essi siano effettivamente padre e figlio Quindi ragazzi assolutamente non abbiamo idea Che poi non so se sarà effettivamente confermata nelle prossime generazioni Però ragazzi ci sono veramente un sacco di elementi che potrebbero confermare questa cosa E a me sinceramente piace pensarla così E voi ragazzi cosa ne pensate di questa cosa? È possibile veramente che il protagonista di Let's Go sia il padre del protagonista di Ultrasole e Ultraluna? Fatemi sapere la vostra ragazzi perché sono veramente molto curioso di sapere la vostra opinione su questa faccenda E mi raccomando anche un bel like per supportare veramente al massimo il video e il canale Per oggi qui da Rocket possiamo dire che è tutto Quindi un saluto, buon sabato e ovviamente Bye bye